novità per l'anno 2022 di casa reactor bite sono le nuove tigers xxl sono delle tiger nuts selezionate cucinate solamente nella misura più grossa quindi proprio come dice il nome xxl extra extra large mi sono selezionate cotte ed aromatizzate grazie a del liquore di grano quindi csl cornsteep liquor una miscela di amminoacidi e un aroma specifico sono infatti disponibili nelle sei aromatizzazioni particolari di casa reactor bait quindi hot spice glm garlic ribes nigrum coco beard banana fish e scopex cream sono l'ideale per l'innesco di ogni carpista che desideri utilizzare un'esca naturale dalle grosse dimensioni sia per le acque liberi che per insediare ogni tipo di ciprinide utilizzando una delle migliori granaglie in commercio